buongiorno, procediamo con l'appello buongiorno a tutti, seduti alla Sesta Commissione Consigliere del Comune di Palermo numero 1033 del 28 dicembre 2021 Presidente è presente, tanto presente, buongiorno, è ovui buongiorno, è presente presente, gelarda, lente, scacchinato, assente giacco è assente, due consiglieri su cinque presenti e allora benissimo, ho verificato la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e procediamo oggi, segretario oggi avremmo dovuto avere in audizione l'assessore Quartonana, giusto? sì esatto, ma l'assessore Quartonana ha mandato una mail chiedendo di rinviare l'audizione di oggi perfetto, rinviare a quando? rinviata, io... ma l'oggetto, il confronto qual era? spostamento del mercatino rinviata, non ha comunicato la data, io ho inviato una mail di presa d'atto e ho chiesto la comunicazione di una data in cui potremmo audirla noi abbiamo, giusto per essere cari, da qui alla fine del mese noi oggi abbiamo la seduta di consigli e domani abbiamo pure la seduta di consiglio comunale noi qui in commissione cosa abbiamo in programma per domani? non abbiamo programmato niente perché c'erano quelle delibere urgenti tra cui c'era anche la delibere sul canone unico infatti la massolana è stata convocata l'altra volta per questo motivo e a cui bisogna dare parere sono tutti pareri urgenti c'è l'elenco sotto il suo cellulare? sì, io direi che ieri intanto ho una variazione in finanza che ho approvato in aula quale? verifichiamo, non ricordo qual era perché ce ne sono una serie c'era la sesta variazione di bilancio poi non so, ieri è arrivata la settima e l'ottava benissimo allora io direi di procedere fatta la verifica con la delibere che è stata approvata noi lo possiamo sapere quale delibere è stata approvata dovremmo chiamare l'ufficio delibere sì, mentre facciamo le comunicazioni se chiamiamo l'ufficio delibere vediamo qual è la delibere di variazione di bilancio approvata la eliminiamo dall'elenco che abbiamo da esitare e passiamo alle altre ok sì, Presidente, è portato a dire la parola sì, allora parola dal consigliatore delle comunicazioni, forse sì, grazie, infatti, buongiorno auguri a tutti, è un piacere parlare più troppo sapere qual è la parola diciamo che mi dispiace che oggi la stessa defia assente spero che questo incontro comunque possa essere effettuato quanto prima in modo tale da poter serenamente valutare lo stato dell'arte dell'articolazione per questa vicenda perfettiva di dire Francia evidentemente che, Presidente, grazie anche alla sua attenta valutazione ci ha visto protagonisti di, diciamo, di, abbiamo, siamo riusciti a verificare la circostanza per la quale effettivamente sembrerebbe che la piantina inizialmente redatta dagli uffici dell'amministrazione dovrebbe non fedelmente riportare la metratura esatta dei gazebi per quello che sono autorizzati per la misura per cui sono autorizzati all'ordinanza ma alla misura leggermente, diciamo, posteriore dai 24 metri ai 36 metri quadrati ma leggermente, parliamo di un terzo in più rispetto alla misura autorizzata e la ringrazio per aver anche sollecitato gli uffici anche nel settembre nuovo e nel media con le misure corrette, state che sicuramente, diciamo, io non sono un tecnico, non sono un geometra ma ritengo che se, come ci hanno detto gli uffici, calcolando i stalli a 36 metri quadrati ciascuno ce ne stavano nel piazzale Gaspare Ambrosini nel 1981 ritengo, riterrei, ripeto, non sono ingegnere, ma riterrei nell'applicazione di alcuni tecnici, principi matematici che potremmo arrivare con una certa serenità a coprire gli 88 stalli che gli uffici ci hanno comunicato essere quelli effettivamente autorizzati a stazionare e mettermi via le pancia, qualora questa piantina la facessimo per una borreta in misura di 24 metri quadrati mi ha fatto piacere constatare la disponibilità degli uffici accogliere il suo prezzo, per sé, a costruire una nuova misurazione di quella che è la corretta il consigliere, buongiorno il consigliere Giovan dalle 10 e 21, segretario buongiorno, auguri, come ragazzi a costruire la disponibilità degli uffici per fare una nuova misurazione e quindi a rifare la piantina in termini di 24 metri quadrati e non escludo che, diciamo, alla luce di questa nuova misurazione che si possa più seriamente confrontare tutte le parti che, sicuramente, alla luce di questa nuova misurazione che possa essere l'inizio seguito all'inputato dalla vicepresidenta America racconto dagli uffici per riprendere un percorso che è virtuoso che era iniziato lo scorso novembre presso gli uffici dell'assessorato e quindi auspico che il prossimo incontro con l'assessore Marcolana possa fissarsi quanto prima ma, soprattutto, possa fissarsi dopo che gli uffici abbiano completato il rifacimento della piantina perché, ai fini di un profico dialogo sul tema della collocazione del mercatino sicuramente è oltremodo necessario che questo processo sia completato sennò torneremmo a dialogare con i fisi in relazione allo spostamento del mercatino su via via Gio Pazio, via Cannaro, soltanto ecco, alla luce del rifacimento della piantina e della presenza dell'assessore sicuramente il dialogo può tornare su quella che era la direttiva prima che questa commissione si era data limitato all'assessore, limitato alla dispostruzione della persona sollevamosca ovviamente al Consiglio di Sottoscrizione Puglia è finalizzato al ritorno del mercatino di piazzare le caffelle così Perfetto stiamo sulla comunicazione l'Alea comunicazioni non so se ha visto l'ambiente ha visto l'integrazione all'ordine del giovani del consiglio comunale da vista non ho prestato particolare attenzione perché c'è una cosa dove siamo dovuti raccontare il fatto proprio no aspettate ce l'avete il suppletivo sotto mano arrivato a quell'ora di mare perché erano un po' mi stiaffica quale non è tanto perché stavate ragazzo e allora come abbiamo il piano di equilibrio male del 92 piani dei crisi come dici che l'etalista per occupazione solo pubblico approvata della regolamenta di applicazione al carico di concessione solo pubblico è chiesto parere sesta commissione richiesto non del 22 dicembre quindi noi credo l'ho violato questo quale è natale voleva dire allora applicazione del canone patrimoniale di concessione solo pubblico no è ancora l'ala dedicata una di queste è arrivato il 22 quindi c'è arrivato il 22 da lì è stata riparare invece questa commissione con le azioni di bilancio qualora io qualora io non lo ergo invenzione di bilancio pensi algo pretorio eh partiglia della riparazione dentro variazioni di bilancio alle 16 e 30 parere io voglio ascoltare in uffici voglio capire l'esposizione pubblicitaria come hanno come dico di dare parere oggi però abbiamo una richiesta di parere e allora scriviamo subito arriviamo subito sia all'assessore che agli uffici delle attività produttive per avere il confronto su questa delibere li convochiamo per domani visto è considerato che sarà iscritto all'ordine del giorno ma che sarà una di quelle delibere collegate al piano di riequilibrio e quindi si scuterà a gennaio però se lo possiamo incontrare è difficilmente ritengo che potremmo affrontarci con gli uffici domani però noi proviamoci nel caso in cui non ci riusciamo ci facciamo dare la lata nel più breve tempo possibile sia dall'assessore appartamento è difficile per fare questa sono qua sopra ragazzi questa è giusto piano di riequilibrio ok questa questa è l'abbiamo trovata si c'è ancora un po' di potenza modifica le tariffe delle occupazioni di solo pubblico approvate con il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione al solo pubblico e l'operizzazione o esposizione pubblicitaria cioè cambiamo le tariffe le tariffe delle cose e giustamente andiamo e fanno fanno i confronti con Roma e con Milano ora vogliamo un basso tra un po' li faremo con New York e con Singapore perché anzi abbiamo le tariffe delle tariffe più basse di Roma e poi spieghiamo quanto riguarda il tuo quadro una casa a Milano e quanto riguarda il tuo quadro è abbastanza tecnica siccome è abbastanza tecnica e siccome serve assolutamente il confronto con gli uffici se non sentiamo l'ufficio e l'assessore non abbiamo non abbiamo certamente la possibilità di poter dare un panere per questa ragione chiedo al segretario di mandare immediatamente una richiesta di confronto con il possessore sui tutti uffici anche già da domani domani non è possibile controlliamo controlliamo la data in tempi rapidissimi di racconto nel primo gruppo o ci sono o ci sono altre cose alle 11 noi andiamo a confronto di capire il gruppo le cose politiche ancora si è capito ma sicuramente si parlava del fatto di poter ritornare in un periodo a fare le tenute miste come è successivamente detto di Ferdandelli come abbiamo chiesto a noi qualche settimana o qualche mese fa un'idea annuncio e io farò tra quelli a scantina che c'è ancora insieme a Romano a fare eventualmente la diffida al Presidente Orlando noi siamo trompe persone perché se c'è gente il numero tra l'altro hanno lì autorizzato lo smart marketing a scopo lo cittadino quindi non c'è più nessuno ma no la vasta è buona quindi oggi lo poniamo diciamo davanti alla cosa sperando che sia quello che non c'era un po' l'altro e diciamo cercasselo proprio se qui viene per rifarvi c'è un conto ma vedere ieri la seduta di consiglio dove ormai c'è un toro teleletario il tecchio per fare ripresa non c'è non c'è più nessuno mi sembra un'esagerazione cerchiamo di capire per quale motivo un po' si sta ostinando in questa cosa poi vediamoci per annunciare ovviamente col ritorno anche delle commissioni non l'altro non è che è per te ma io sono qui ci teme una grande presenza dei contagi ma ma Presidente lei richiede comunque che ho portato la nuova lettura adesso non è una cosa tecnica è una cosa tecnica quindi questo perché è un problema secondo me gli adeguamento delle tariffe con parametri che avranno utilizzato se io voglio capire quali e comprare modalità le faccio un prevedere subito come se le conti lei non è presente noi abbiamo chiesto il tiranello è io e abbiamo chiesto per questo nuovo regolamento la possibilità di avere una geolocalizzazione delle insieme indici già presenti geolocalizzazione che dove essere fatta nel comune perché già si era costituito un ufficio speciale come si era costituito una specie di parti poste per studiare questa cosa molti anni fa che non ha fatto niente poi il regolamento in qualche modo è passato con la paura che noi abbiamo che sia un pochettino selvaggio come regolamento le avevamo portato anche le menti di Roma dove grazie all'allunto dell'università insomma avevamo fatto una geolocalizzazione anche qua avevamo contattato l'università che si è detto disponibile ad aiutarvi per geolocalizzare a un pezzo che era a basso Marino ci disse che avrebbe approfondito non ha fatto perché non l'ho Oggi una volta fatto adesso vogliono adeguare chi ha due cariche e perché tecnica? Tecnica perché diciamo si varia tra l'occupazione permanente quelle temporane e riportano tutte le tariffe al metro quadro delle principali le città italiane e anche per i passi carabili ovviamente con tariffe che sono completamente diverse a Milano si paga il doppio a Napoli si paga il titolo ma questo diceva e quindi è giusto che ci vadano a spiegare non solo questo ma che ci vadano anche giustamente cerco il tiramello ci facciano capire anche perché se no è gioco al tempo a quello ci facciamo capire se rientra in pieno o meno nel discorso del piano di liquidifico ce ne vogliamo sapere così quanto incameriamo in più giusto rispetto a quello che ci sono che ci sono rientri di potere che ci vuol contare sì e allora visto e considerato che questa delizia la dobbiamo affrontare gli uffici e visto e considerato che abbiamo un po' di tempo in considerazione per la conferenza di capitulare alle 11 quindi ancora un po' di tempo per affrontare altri argomenti c'è io direi di prendere in esame una delle terifere variazioni di bilancio l'abbiamo verificato chi è di quale terifere abbia approvato nessuno degli uffici sono tutti smart working sicuramente non quelle che sono pervenute ieri quindi la settima all'ottava prendiamo la settima all'ottava qual è in ordine la settima massimino che ha tutto il numero numero 313 del 6 dicembre avendo detto settima variazione di bilancio di senso dell'articolo 5 l'entra settimana 13 del 15 6 leggo miglioramenti ok tu la leggere con il ciragano forza se mi date un minuto la leggo io devo devo mettere a barbara che stiamo leggendo questa leggo la leggo la leggo la leggo la leggo la leggo Grazie. Comunque è tutto. Comunque è tutto. Comunque è tutto. Il bilancio di previsione 2020-2022 che è l'aggiunta comunale con atto numero 344 del 31-12-2020 esecutivo e senza legge approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022 comprensivo nel piano della performance. La legge 17 luglio 2020 numero 77 ha convertito con modificazione il decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, decreto rilancio, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché le politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al comma 3 bis ed articolo 106 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021. che il decreto del ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio comunale di previsione 2021-2023 degli enti locali, che è stato ulteriormente differimento al 31 marzo 2021 che l'articolo 30,4 del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di quell'articolo 151,1 del decreto legislativo 17 agosto del 2000 numero 267 al 30 aprile 2021 ha ulteriormente al 30 aprile 2021 numero 56 ha ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di quell'articolo 151,1 del decreto legislativo 17 agosto 2000 numero 267. Ci sono un sacco di errori in questa... Sì, ho il punto 3. Il numero 267 è stato riferito al 31 maggio del 2001 che è 2021, che è con decreto legge 25 maggio 2021,1 del decreto legislativo 173 articolo 52,2 lettera B il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui è l'articolo 151,1 del decreto legislativo di 16 agosto 2000 numero 267 è stato riferito al 31 luglio 2021. Questo ente non ha ancora provveduto all'approvazione del 2021-2023,1 del decreto legislativo del 2021-2023,1 del decreto legislativo 267 del 2000, esecutivo senza legge, ha ridefinito l'organigramma e l'assetto organizzativo dei servizi di rigenza, considerato che l'articolo 5 della legge regionale 13 del 15 giugno 2021 all'oggetto norme in materia di variazione di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisore pubblicata dal Guri numero 26 del 18 giugno 2021, ha disposto che per il premio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi, la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni, in sede di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzate ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta da ratificarsi appena di decadenza da parte del Consiglio ai tenti dell'articolo 275 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modificazioni. Che la circolare 26 agosto 2021 dell'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica ha chiarito che la disciplina transitoria dettata dalla norma di cui è l'articolo 5 della legge regionale 13 del 2021 si ritiene applicabile anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che hanno in corso la procedura di disequilibrio finanziario pluriannale che il collegio dei revisori ha reso il parere protocollo numero 422 del 23 novembre 2021 secondo Cori, il Comune di Palermo al fine di conseguire il pieno utilizzo dei fondi extracomunali ed evitare la reova degli stessi può procedere a eseguire variazioni di bilancio anche relativamente alle annualità successive all'ultima risultante nell'ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale che è relativo al pregno 2020-2022 prevedendo alla iscrizione di tutti gli interventi finanziari a valere sui fondi nazionali ed europei che la Giunta Comunale con deliberazione numero 313 del 6-12-2021 ha approvato in via d'urgenza una variazione di bilancio al fine di destinare le somme per le motivazioni contenute nelle richieste di variazioni di bilancio essenzia della citata legge 13 del 2021 pervenute da parte dei dirigenti di area, settori, servizi, uscili autonomi legata alla delibera citata che l'aduzione della deliberazione numero 313 del 6-12-2021 ha il principio ed esclusivo fine di sconturare che si determini la perdita di finanziamenti estracomunali di derivazione statale o comunitaria finalizzata alla realizzazione di interventi che se non realizzati determinerebbero profitti di lezione del pubblico erario che la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento in oggetto dando atto che le risorse stanziate con la presente variazione di bilancio potranno essere effettivamente impegnate ed utilizzate nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e dai principi contabili che la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento in oggetto dando atto che le variazioni di bilancio di cui alla presenza delle liberazioni in quanto costituente esclusivamente partite autobilancianti e non richiedenti alcuna imputazione di spesa a carico di risorse proprie del bilancio non incidono sugli attuali perturbati equilibri di bilancio siccome illustrate a regione generale nell'ambito delle relazioni inviate ex articolo 147.5 del decreto legislativo numero 267 del 2000 nonché in omaggio agli articoli 35 e seguenti del regolamento di contabilità che l'ordano di revisione ha espresso parere favorevole a essenza dell'articolo 239.1 lettera B.2 del Tuel sulla variazione di cui alla citata deliberazione di punta comunale numero 263 del 23 settembre 2021 che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione numero 313 del 6 dicembre 2021 sono soggette a ratifica da parte dell'organo consigliare essenza dell'articolo 175.2 del decreto legislativo 267 del 2000 entro e non oltre il 31.12.2021 propone dare atto a fare proprio quanto indicato alla parte espositiva della presente proposta di ratificare la variazione di bilancio disposta in via d'urgenza dall'aggiunta comunale con deliberazione numero 313 del 6 dicembre 2021 esenza dell'articolo 175 del decreto legislativo 17 agosto del 2000 numero 267 e successive modificazioni e integrazioni dare atto che la variazione di bilancio di cui alla presenza deliberazione in quanto costituente esclusivamente partite autobilanciante noti che l'entra alcune imputazioni di spesa a carico di risorse proprie dal bilancio non incidono sugli attuali perturbati equilibri di bilancio siccome illustrati da ragione generale nell'ambito delle relazioni inviate ex articolo 247 del decreto legislativo 267 del 2000 nonché in omaggio agli articoli 25 e seguenti ai regolamenti di contabilità dare atto che l'adozione della presente deliberazione al 3 si può ed esclusivo fine di scongiurare che si determini la perdita di finanziamenti estracomunale scusate di derivazione statale e o comunitaria finalizzata per l'organizzazione di interventi che se non realizzate si determinerebbero profili di lesione del pubblico erario perfetto io direi di procedere abbiamo interventi a fare in merita l'onda libera con chi eri? ma io sto leggendo i pareri favorevole non c'è una realtà tecnica ma è da mezzo in investigare sulle storie mani ci sono viste che è l'assessore a questo posto e proprio visto per condizione per favorevole tornare a live e che il gonier generale ha espresso anche i pareri in corrette non è che in merna quando vi fa la regolità potabile di una variazione e per questo motivo Presidente, io ho già non c'erano un po' di lavoro Consiglio Gerardo Perfetto, allora procediamo con la votazione la la si, mi ha dato un secondo che c'è un secondo un secondo Allora procediamo con il parere relativamente alla delibera avente per oggetto, ratifica da deliberazione di giunta comunale numero 313 del 2012-2021 avente per oggetto, settima variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 5 legge regionale 13 del 2015-2021 numero di protocollo 154-70-60 del 2021 anello favorevole canto favorevole schialarda favorevole approvare la commissione estremi a parere favorevole all'unità dei presenti perfetto allora approvata la delibera io direi mi avviarci alla lettura del verbale e finiamo la seduta perché alle 11 circa il gruppo e il consiglio di canto e il consiglio di canto devono andare però in realtà sei solo tu allora devi chiederci verbale numero 1033 del 28 dicembre 2021 il vicepresidente anello alle ore 10 e 14 si apre la seduta in seconda convocazione con la presenza del consigliere canto consigliere canto la seduta in video registra e pubblicata nel sito del comune di palermo del parte integrante del presente verbale argomenti a trattare ratifica dell'imperazione di giunta comunale numero 304 avente per oggetto sesta variazione di bilancio ratifica deliberazione di giunta comunale numero 313 avente per oggetto 17 variazione di bilancio e ratifica deliberazione di giunta comunale l'avente produttiva trattava variazione di bilancio comunicazione e programmazione incontri variaventuale attraverso il verbo della seduta via il presidente anello chiede le comunicazioni sull'audizione dell'assessore martorano il segretario risponde il consigliere canto ha dispensato l'assenza dell'assessore martorano e spera che l'audizione si possa effettuare quanto prima per aspettare la vicenda del mercatino di anari via de france a riferimento all'errore fatto agli uffici nel riservare le misure errate rispetto alla delibera di consiglio comunale e sicuro che con la nuova planimetria e con le misure corrette si possano ospitare tutti i commercianti sottolinea disponibilità degli uffici per rispondere una nuova planimetria con le misure giuste pertanto dopo la modifica si augura di incontrare l'assessore martorano quanto fine il consiglio di giunta fa riferimento all'integrazione dell'ordine del giorno nel consiglio comunale si apre un dibattito relativamente al canone unico il presidente anello chiede e al segretario di audi dell'assessore martorano e l'ufficio per la delibera del canone unico sul solo pubblico il consiglio di giunta precisa che la delibera è tecnica il presidente anello concorre che è un confronto con gli uffici in tempi rapidissime il consiglio di giunta affronta il problema delle salute miste no questo lo tolgo questo lo puoi lasciare non è che ha detto che è così elementi tecnici il consiglio di giusta grande libera a numerosi l'antica così un pannello concordo e chiede e chiede un confronto con gli uffici in tempo che la proposta verrà fatta il riunione di capiglucco giusto la proposta delle salute miste consigliere canto chiede che è opportuno dare una lettura un'alberato i perdoni il consiglio giarda affronta il problema delle salute miste e anche il programma affronta il problema della necessità delle sedute miste e che la proposta verrà effettuata il riunione di capiglucco il consigliere canto chiede se è opportuno dare una lettura alla delibera il presidente anello ritiene di sentire gli uffici per avere chiarimenti consigliere da fare una relazione sulla delibera del canone unico al consigliere canto affronta le problematiche che ci sono state e precisa che è stata chiesta la geolocalizzazione degli impianti il presidente anello chiede di chiede di dare lettura alla delibera posta al punto 2 si procede con la lettura il consigliere canto precisa che ha letto il parere favorevole della regione generale precisa che si tratta di regolazione di ancio senza impegno di spesa la commissione procede con il parere della delibera di quel punto 2 la commissione esprime parere favorevole con la seconda parere favorevole all'unità dei presenti con la seguente votazione anello favorevole canto favorevole gelardo gelarda favorevole il presidente anello chiede di dare lettura alla seduta numero 3033 del 28 dicembre 2021 si procede con la lettura e l'approvazione per appello nominale per l'approccio del verbale la seduta odierna anello favorevole tanto favorevole guarda verbale approvato all'unanimità dei presenti sono le ore sono le ore 10 e 56 la seduta è chiusa e ci riaggiorniamo a donne a rivederci a tutti grazie 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 grazie